Lei con il Ragiro World Championship dovrebbe essere già allenatissimo? Sì, sono allenatissimo. Io, devo dire, facevo anche atletica, ho fatto dieci anni di atletica, quindi quando ho saputo che facevano il record con una prestazione di atletica leggera ho detto che bello, quest'anno mi sento a casa. Con il Ragiro World Championship ho perfezionato alcuni dettagli, riesco a correre sull'asfalto anche con le scarpe di bernice. Al di là di questo, insomma, è un appuntamento importante per la ricerca e per la solidarietà. È un appuntamento importante, poi sono felicissimo che questi record si svolgano a Padova, poi mai come in questo periodo vediamo che quando ci sono gli eventi importanti Padova sa stringersi e ottenere dei grandi risultati, quindi penso saremo tantissimi in Prato della Valle, la cornice più bella del mondo per fare una cosa così. Mi è capitato questo piccolo incidente, ma si tratta di una cosa abbastanza modesta, anche se si vede un segno piuttosto evidente, una cosa molto modesta e naturalmente 17 sono a questa straordinaria iniziativa che è fatta per promuovere la ricerca a vantaggio dei bambini che hanno la leucemia o altre malattie particolarmente gravi. Mi pare un'iniziativa bellissima e ci voglio essere come ho cercato di essere in tutti gli aspetti organizzativi di questa straordinaria Kermess.